Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignone. In A1 verso Roma ha segnalato una coda tra Valdichiana e Chiusi per un incidente al chilometro 409. Ralentamenti in Fipilin direzione a Livorno tra la Strassigna e Ginessa Fiorentina. Segnalato vento forte sulla strada Aurelia nella tratta Grosseto-Orbetello, raccomandata alla massima prudenza. Sul raccordo Siena-Firenze possibili disagi per una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni per lavori tra Tavarnelle e Pogibonsi Nord. A Firenze sul viale Milton disagi per una riduzione di carreggiata da viale Onedecimo a Largo Martiri delle Foibe. Si tratta di cantieri propedeutici alla realizzazione della nuova linea Fortezza San Marco della Tranvia. Per un investimento di animali di grossa taglia i treni regionali della tratta Roma-Terontola potrebbero subire importanti ritardi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. A tre info sui nostri canali social. Buon viaggio!